Soprattutto il senso di Dio Siamo i signori politici che a loro i principi chiedono lo spettacolo della scusura dell'acqua della tastata a piazzare George Byron è possibile osservare lo spettacolo della scusura dell'acqua Infatti alle ore 13 inizierà la graduale scomparsa dell'acqua fino alla qualsiasi completa scomparsa nel giro di 15-20 minuti potete osservare la graduale scomparsa dell'acqua per poi riaverla in vista alle ore 15 con la riapertura dell'acqua La primavera del barco dell'acqua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.